si ma se vi siete già lanciati no 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 ancora ma tra poco vai buttate eh ora qua ok ok io la vedo adesso si ma pure a me ogni tanto anzi strano che questa volta è una partita e mi caricava appena partiva il bus stavolta mi ha caricato prima eh ma perché ne abbiamo fatto una prima e poi ve l'ho perdonato eh si però aspetta però è partita prima ma non ero dentro il bus quando è partita no mancava un secondo mancava sono sicuro che dubbio eh però ma tanto non c'è nessuno qua eccolo qua il primo ma qua c'erano mandati però come me ne avevo preso io qua una volta c'erano andato qua eh ah ma questa no ma non è questa e' l'uno dopo ciò ah noi la 17 per me non ho messo a me poi ciò che quello dicevo è stato qua ma l'uno e' qua l'uno e' l'e' le barili con la raga e' dove vai c'è non sei uno ma ma quando c'è ma tanto ci è camionello slu ah infatti e' qua dentro e' qua dentro cavolo sai perchè non ho tolto le cose per pescare quelle la le raffiocce ma sono ma io l'ho preso questa e' allora vedi e' allora vieni vieni che ci facciamo il barile via ma si parmi ma dove' l'altro barile dove ci sono due si l'altro e' la aspetta addio l'ultimo colpo aspettiamo via aspiccati lì lì l'altro l'altro lì vabbè mi sto facendo questo eh vabbè ma la facciamo eh vabbè vai vai tu fatti l'altro qua c'è una cassa comunque non capisco la logica se adesso i nt ci possono restare solo tassi che merda lì eh io ho come uno di cura io vero allora ehm ma dov'e' l'altro voso il personaggio eh adesso andiamo ma non posso mandare a entrare lì però io salio tu ma io prendo io prendo qualcos'altro adesso vedo no no ma perchè almeno ti porto diretto perchè tu non sai dove è l'nfc dai io io ti ho una macchina vabbè lo salio vai vai sei seguimi seguici se mi rado la tiro alla macchina vabbè lo so al piano dai lo so lo so non è che è il tempore non è che è il tempore ma non è che la scipiteria però tanto è qua vicino io ho usato questo questo skin qua che ho messo io io sinceramente questa qua ha usato solo quando c'è una citta forse è una volta è qua? no ma quello è ancora il 12 questo questo è il 12 il 17 adesso ci arriviamo hai detto che era vicino avevi detto io ho capito che era vicino il 17 guarda dove siete che non vi vedo qua sotto sotto siamo nel buco allora tutte le prese cazzo aspetta ma io questo l'avevo preso e fa 12 infatti qua ci siamo andati con lì eh mi ricordo io non l'avevo preso scusa l'accolta è il 6 eccomi come stai? ce l'abbia ce l'abbia con gli sbagliati come il 6 ma vabbè sbagliati eh vabbè tutti qua stanno guardami ascolto addia ma stai una specie ma no ragazzi mi sono beccati un orso russo qua c'è un'altra macchina ma secondo me è meglio prendere la macchina per tutti che almeno arriviamo si dai ah infatti aspetta che c'ho dai tesoro di bananita dai vabbè pegliata tu la macchina vieni lì a sali nella macchina almeno arriviamo tutti insieme vuole usare un po' la moto e lo so ma perchè dov'è che è? dov'è che è? vieni io seguo vai segui adesso non ce l'avevo ti scuspetta 17 17 eh 6 che macchine ci sono? puoi fare il suonare eh? io ho giocato con l'erico con la freccia giù mi sembra guarda la freccia giù guarda la freccia giù io sono è più uguale penso no non vedi bene eh nooo fermatevi qua qua? ah ma ah merda eh eh ma stavo un attimo guardando la macchina ah ma eh chi è questo qua vediamo ma oh grazie è quello di man in black ah no ce l'avete tutti? vediamo se me l'ha dato perchè non so se ma non me l'ha dato ah no si se me l'ha dato si te l'ha dato si te l'ha dato ok e ora? e ora? e ora vi porto al 6 saliato saliati su una macchina fidatevi è meglio ma siamo 10 ma l'NPC possono salire sulla macchina adesso e allora cosa facciamo? no eh no no puoi salire ancora lia sono 4 poste eh l'altro addio eh quello no eh quello no altro chi? eh il bot ma chi è? ma è un bot il bot dal 6 ha salito un bot? è un bot è un bot sto andando anche il mio bot a terra è finiiiit eee non c'è qualcuno che spalla eh mi sa che l'altro l'altro bot ecco là è un bot indietro fa ecco lo scarda qua addio eh più glielo ho mai è la non riesco a prenderlo eccolo c'è il palloncino è pezzo di merda detto nell'acqua mi stanno distruggendo eccolo non muore mai arrivano gli altri stanno arrivando qua sono buttati sono buttati dove? qua dove sono? qua e l'altro non gli conviene proprio star fermo ho sentito una macchina ho sentito una macchina no mi uccide presa di brutto non è vero è scarsissimo questo lo vedo ammazzato no c'è qualcun altro c'è un altro ma dove è andato quello che ho ucciso io? raga io ho il bottino di bananita adesso vado voglio prendere... ah te l'ho dato? si te l'ho dato qua c'è il DMR viola però il 6 ma tanto la stage ti chiude il... dove c'è il 6? io prendo lancerazze ecco... no raga il po' di fianco po' di fianco è tutto fortunato la tutta pure a me me l'ha... me l'ha dato vicino il coso comunque quindi... prendi le copie di lancerazze che sono a pieno io dopo me li passi ecco eccolo a posto dov'è? iiiiiiii scar legend oh venite ce ne sono altri ci spero che c'è qualcuno qua eh quanti botti ci sono ragazzi c'è un altro sta arrivando eccolo ma c'è lì anche se lo ricordo ma c'è quanti cazzo ci sono la leggenda se volete lasciamolo farò mai eh me lo sta uccidendo vedi l'hai fatto... ah l'hai giro tu che no pensavo che eh c'era il lupo che lo stavo uccidendo eccomi lì eccomi lì eccomi vabbè te l'ho lasciato eh vabbè dici grazie almeno vuoi lo scarnettere? c'è qualcuno a quale ancora eeeh vuoi venire a prendere no no ma cos'è che c'è hai lasciato qualcosa oh io ho uccido questo qua sopra qua te lo dico eeeh eeeh noi andiamo chi è andato quello che era qua oh ma ma non era un non era un bot questo mi sa eh comunque probabilità zero oh c'è il pompadoro qua no no sinceramente non era un bot questo eh adesso arrivano i compagni aspettiamo un attimo adesso arrivano a prendere la scena ce l'ha l'aquila l'aquila ho qui eh quello fa avevo di tempo quello via lia 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 andiamo a prenderti l'npc aspetta un attimo che ok qua sarà pieno di munizioni era sto coglione qua eh denis prendi la ziplina eeeh i miei compagni di questa oh vabbè questa è solo non deve giocare non è pcc quale è il 6 no ma sta arrivando da 6 però eh lo so ma tanto è lì aspetta che arrivo dove stai? ma dentro? il castello eh sì speciate guarda c'è la mia pinga guarda come faccio no ma c'è il botto qua merda le palle andiamolo solo ritrodo da ma posso morire? no mi piglia la safe naaa è qua ah lo so tutto io che so ma io devo devo riuscire ad arrivare sono arrivata a sotto perchè sono caduta quindi non ci arriverò a prenderlo ma correte dov'è? sopra? sotto? è sopra se lo sto buttando sotto però no no nina che la sei? che la sei? lascia stare come gli buti sotto il personaggio? è una macchina è una macchina è una macchina prendimi in questo ah dai vai vai questo uno eh raga ve lo dico eh beh dove sei? è qua ma dove devi andare con la macchina? non lo so che non lo sento ma chi è questo? allora Ecco lì Ecco lì con la macchina Aspetta gli sparo Nooo Mi sono sparato io ma non è possibile però Ma che sfiga c'è Guarda quelli Vedi i botti lì in mezzo guardali Ma Ma quelli non ho botti però, quello non è un botti quello Deve spavano il botti no cazzo Eh non ti piego il martello il coglione Ma Ma che cazzo fanno questi Ah sono morto Ah è finita Ah non è finita Ah adesso è morto Non è morto Ecco me la ruba tutta qua qua oh sta curando quel coglione lo sta restando no 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 è scappato lì era l'ultimo di quelli c'è il botte quel coglione a cura e io lo finita no la cura no cioè gli scudi hanno restato insieme a quello che quello che era qui però ce l'abbiamo qua a fianco 26 30 ma come sparano ma che se sono botte lo trovi che stanno sparando qui a terra non lo so vedo ma qua sotto eh io ho paura che mi viene quello da dietro quel coglione la mappa di tutela da mattina poi è pieno raga di gente madonna le botte sono queste è pazzesco e approfittane e approfittane non sapete ah qualcuno gliel'ho fregata ah forse è quello la gliel'ho fregata eccole il coglione quello di prima è lui cazzo non è un bot quello eh guarda che non lo piglia è entrato da dentro quello è l'amassato da solo comunque quello eh laccato bianco a terra 1 ammazzati eccolo è andato con la moto eccolo eccolo lì ma è quello lì forse no si si è lui eh che cavolo è qua ci sono le le puoi curare qua c'è il kit è qua raga io lo push non me ne frega pusha lo gà c'è il kit qua ria no mi spara da dietro qualcuno anche però straccato bianco qualcuno mi ha sparato da dietro eh ma quello col dietro col bot dietro vedete oh oh non so che non è un bot questo qua qua eh no raga oh qua 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 non sono bot questi cazzo io sto attaccando questo sono scarsissimi però però io so che non è un bot li attenta che ce li abbiamo qua vicini ce li abbiamo questi qua vicini li attenta qua sopra eh aspetta lo so capito io non sono bot questi te lo dico eccolo uno è la sono scarsissimi però eh vabbè mi spara l'altro lo sapevo dove sono li pusha qua sopra merda mi sta per uccidere a me ma dove l'ho massacrata quello eh comunque non è uno solo te lo dico più double kill ha ammazzato un altro decisi tutti? no eccolo eccolo ma come cazzo sparano va a metà non mi spilde no muori sacchino mi ha tolto tutta va a tolto! ma ancora vico? ma Vabbè è la corona mia OOOH MIA TOTTO Li ho ammazzati tutti, li ho ammazzati tutti Sono un fenomeno Ma c'è un'altra corona? No, che sfigaccio Si, c'è un'altra lì E dov'è? No, ma è fuori safe Si, vabbè E' qui E' qui E' dillo, cazzo Ma l'ho messo No, io pensavo quella, pensavo Raga, aspettate Tutto il bidone Vabbè, tanto siamo ritti, ne butto due Io ti giuro, ho pianto Eh, fine Ancora 9 persone ci sono ancora Cosa c'era l'ora? Via merda e oro? Ma Oh, merda, merda, via Cazzo Cazzo Ma, ma come? Ma erano 9 persone c'era scritto Eh, ma non ammazzate le 7 io No, ma adesso, ora diceva che ce n'erano 9 Dopo che abbiamo...